buongiorno e bentornati al cittadino digitale tra smartphone computer e console oramai le connessioni wifi sono diventate fondamentali infatti ognuno di noi a casa dispone di un router senza fili per collegarsi ad internet occorre però fare molta attenzione alla sicurezza per non incorrere in cattive sorprese vediamo alcuni consigli per rendere la nostra rete wifi più sicura per cominciare definiamo alcune parole che spesso utilizziamo modem casi dei termini modulatore e demodulatore è un apparato di rete deputato alla ricetrasmissione di informazioni su linea telefonica router letteralmente in stradatore è un congegno che permette la condivisione di una connessione di rete compresa quella internet oggigiorno il modem e router sono inseriti in un unico dispositivo wireless wifi letteralmente wireless fidelity si tratta di una tecnologia che permette a due dispositivi ad esempio computer tv smartphone e così via di scambiarsi dati senza fili tramite on the radio proteggere la propria rete wifi è importante perché davvero molte persone per svariati motivi cercano di accedervi senza la nostra autorizzazione al fine di poterlo utilizzare per i propri fini a volte anche illeciti ad esempio se uno sconosciuto riesce ad entrare nella rete wifi e usufruire senza autorizzazione della nostra connessione ad internet possono sorgere molti inconvenienti del tipo rallentamento della velocità di connessione dovuto allo scaricare di film e programmi furto di informazioni personali attraverso lo sniffare dati e password che utilizziamo attivazione di abbonamenti che vengono addebitati alla nostra bolletto al credito residuo violazione di leggi dello stato quali ad esempio il download di materiale illegale dai film alla pedopornografia è importante quindi tenere a mente che ognuno di noi è responsabile della propria connessione wifi ad internet e di come questa viene utilizzata ovviamente violare una rete wifi è reato i principali consigli per rendere sicura la nostra rete wifi e quindi il nostro router sono modificare i dati di accesso del router è fondamentale cambiare la password di accesso utilizzata per modificare le impostazioni del router configurandone una molto complessa per fare ciò occorre digitare sul browser solitamente l'indirizzo 192.168.1.1 ed effettuare l'inserimento di login e password spesso sono quelle standard del tipo admin admin oppure admin password inserire sempre una password alla nostra connessione wifi e non lasciare mai la rete aperta se questa è già presente modificare quella standard fornita dal produttore o dalla compagnia telefonica che spesso troviamo su un talloncino attaccato sotto il router attivare sempre un protocollo di sicurezza per l'autenticazione del tipo vpa oppure vpa2 consigliabile quest'ultimo ovviamente ove possibile disattivare il vps acronimo di wifi protect setup tecnologia che permette di far comunicare il router a vari tipi di dispositivi wireless semplicemente premendo un tasto su entrambi i device aggiornare il firmware cioè il software di gestione del router attraverso le procedure automatiche presenti nel dispositivo evitare aggiornamenti manuali se non sia esperienza abilitare il firewall del router decisamente consigliabile per evitare connessioni indesiderate disattivare la gestione remota del dispositivo in modo che il router può essere configurato solamente all'interno della nostra rete casalinga ed infine nascondere l'SSD il service set identifier in pratica il nome della rete wifi infatti se vogliamo evitare che sconosciuti tentino ad accedere senza autorizzazione alla nostra connessione wifi è possibile rendere questa invisibile e fare in modo che solo chi conosce il nome della rete wifi possa digitarlo insieme alla password e quindi collegarsi sperando che tutti questi consigli vi possano davvero tornare utili per rendere più sicura la vostra rete wifi vi saluto e auguro a tutti una buonissima giornata grazie a tutti